Dopo cinque anni di governo, oggi abbiamo un'amministrazione sana, una regione più forte, con la capacità finanziaria di tornare a fare investimenti e che si consegna alla prossima legislatura con i conti in ordine. Così il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsiglio, all'Aquila, nell'incontro stampa di fine anno, spiegando l'approvazione, la scorsa notte, in Consiglio regionale, della legge di stabilità e del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Noi chiudiamo tutti i debiti che avevamo ereditato, lasciamo quindi un'amministrazione sana senza debiti, prevediamo le coperture anche decennali, ad esempio per il contratto del trasporto pubblico ferroviario con Trenitalia, il contrario di quello che io ho trovato, perché in questi anni abbiamo dovuto più volte manovrare sul bilancio per dare copertura di diversi milioni rispetto a contratti che altrimenti non sarebbero stati onorati. Quindi è una regione più forte, una regione che ha oggi la capacità finanziaria di tornare a fare anche investimenti attraverso l'accensione di mutui, è una regione che quindi consegniamo alla prossima legislatura con i bilanci parificati, sanati, abbiamo ereditato 4-5 anni di bilanci e di rendiconti non approvati e non parificati dalla Corte dei Conti, quindi un percorso di risanamento e di rimessa in carreggiata dei conti pubblici molto molto importante. Tra questi segnalo quelli della sanità che sono la parte più importante del bilancio regionale che abbiamo chiuso in questi anni sempre in pareggio utilizzando i fondi del Fondo Sanitario Nazionale a differenza di altre regioni, ultima la Toscana che ha dovuto incrementare l'IRPEF per far quadrare i conti e i bilanci delle ASL della propria regione. Questo in Abruzzo non è accaduto, è un altro indice di buona amministrazione della nostra regione. Proroga a chiusura del Tribunale dei Minori, una proroga al 2026, si dovrà adesso da subito lavorare per una definizione della geografia giudiziaria abruzzese? È quello che già si sta facendo, questa proroga non è come negli anni passati una proroga così al buio, è una proroga motivata anche dal governo stesso con questa intenzione di rivedere la geografia giudiziaria. Io ho incontrato pochi giorni prima della redazione della Mille Proroga il ministro Nordio insieme al sottosegretario Mantovano e al sottosegretario del Mastro, tenendo precise garanzie su questo. Li ringrazio perché l'impegno che hanno preso con il sottoscritto e tramite il sottoscritto con la regione Abruzzo è stato onorato e dimostriamo ancora una volta di saper mantenere gli impegni presi. L'approvazione della manovra è arrivata tutto sommato in maniera rapida e senza particolari contrasti e anche un segnale importante di compattezza per la maggioranza di centrodestra. Io voglio solo farvi notare la differenza tra cinque anni fa quando io da pochi giorni designato come candidato presidente del centrodestra andai al Consiglio regionale dove il 31 dicembre alle 4 del pomeriggio ancora stavano così litigando su chi dovesse entrare in aula, difficoltà a trovare il numero legale, a chiudere il bilancio e una maggioranza che perdeva pezzi e faceva fatica anche a riunire la Giunta. Noi oggi finiamo la legislatura con una maggioranza di 20 consiglieri contro i 18 eletti a inizio legislatura. Il bilancio è approvato la notte tra il 28 e il 29 dicembre con soli due giorni di discussione tra Commissione e Consiglio. Credo che questo dimostri a sufficienza la forza e la compattezza della coalizione e la capacità del centrodestra di assumersi responsabilità di governo.